Siamo con Luigi Ranni che è il capogruppo di Civicamente che ha deciso ieri sera di non votare il bilancio uscendo dall'aula. Il giorno prima ha fatto un documento di autosospensione, perché? Buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo ritenuto moralmente inopportuno approvare un documento che è stato sottoposto all'attenzione del Consesso Civico, semplicemente perché vogliamo vederci chiaro. Vogliamo che sia noi, sia la Sise Civica, sia soprattutto i cittadini capiscano e si chiarisca quale siano le condizioni e lo stato di fatto del Comune di Giulianova alla luce di tutti gli avvenimenti che sono accaduti nell'ultima settimana, dieci giorni, che ci hanno profondamente sconvolto. Non era quindi soltanto una questione politica? Sì, è meramente una questione politica. Non abbiamo per nessun tratto calcato la strada amministrativa o tecnica perché non vogliamo entrare in questo terreno, perché non siamo dei tecnici e perché la questione politica, così come abbiamo riferito in Consiglio Comunale nel documento, ha necessità di un rilancio e di una svolta altrimenti non è più il caso di continuare e di andare avanti se non si riescono a dare risposte ai cittadini. Quali punti volete maggiori chiarimenti? Abbiamo fatto un elenco di punti sterminato, perché abbiamo preteso dall'amministrazione comunale, dal sindaco e da tutta la giunta dei chiarimenti su tutti i punti che sono stati trattati nell'ultimo anno, anno e mezzo e soprattutto su quelli che dovremo trattare di qui in avanti. Quindi non c'è un punto specifico, ma ci sono una serie di questioni che vanno rivisitate, abbiamo detto ricertificate affinché la chiarezza sia fatta un po' per tutti. Quindi ieri sera mi ha ricordato che il sindaco ha già accettato la rivisitazione di tutti gli atti firmati dalla dirigente? Il sindaco ha fatto già una nota a coloro che si occupano dei vari settori, sia per quanto riguarda l'urbanistica, sia per quanto riguarda il bilancio, insomma per tutte le tematiche necessarie, scrivendo che vuole, così come noi abbiamo chiesto e l'abbiamo detto in consiglio, una rivisitazione, una ricertificazione di tutto quello che è stato fatto. Quindi aspetteremo queste operazioni e poi valuteremo con chiarezza una volta che si saranno definite un po' le posizioni, un po' la situazione. Ma io ieri sera le mie parole forse sono state fraintese, non sono sereno, non sono tranquillo nell'approvare un documento nel quale ci sono dei dubbi e delle perplessità, ma non solo da parte mia perché se avete ascoltato il Consiglio Comunale tutti i consiglieri comunali hanno manifestato dei dubbi e delle perplessità. Un consigliere comunale che non si sente sereno nell'approvare un documento va lasciato libero di chiarirsi e di chiarire anche alla città quello che è avvenuto ma anche perché non lo sappiamo nemmeno noi direttore, sono tutte ipotesi che leggiamo dai giornali ma non sappiamo nulla di preciso e di specifico.